C'è la fattoria dei gufi per sviluppare l'empatia tra bambini e rapaci, l'agri-villaggio delle sue recontadine, le lumache che crescono con la frequenza dell'universo, ma anche le ipocaloriche cipsi di zucca, le arnie da adottare contro i cambiamenti climatici e il primo agri-delivery con consegne in 30 minuti tra i premiati dell'edizione 2021 di Oscar Grina. Il concorso sull'innovazione promosso da Coldiretti Giovani Impresa, che nella selezione regionale ha premiato sei imprenditori per le idee e progetti più innovativi. I risultati sono stati svelati a Chieti nel Museo La Civitella, la presenza del presidente di Coldiretti Abruzzo Silvano Di Primio, del direttore regionale Coldiretti Abruzzo Danilo Merz, del delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Giuseppe Scorrano, nonché della delegata nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, Veronica Barbati. Presenti anche l'assessore alla transizione ecologica Chiara Zappalorto, il presidente della Commissione Agricoltura della regione Abruzzo, Emiliano Di Matteo. E veniamo ai premiati con l'Oscar Grina Abruzzo 2021 per la categoria impresa digitale. L'Oscar Grina è andato a Francesco Bruno Rubini, 28 anni, titolare dell'azienda agricola Cascina Bruno di Elice, per un'idea singolare, un allevamento di lumache di terra cresciuti al ritmo di musica, ma non una melodia qualunque. Le casse musicali posizionate nei campi trasmettono una musica a 432 Hz, denominata frequenza dell'universo. Tale musica armonizza la struttura dell'acqua presente nelle piante e conferisce la capacità di reagire agli stress. Il risultato è una crescita migliore dei vegetali e delle chiocciole che si cibano di essi e da cui Francesco ottiene pregiate creme cosmetiche a base di bava di lumaca. Categoria Campagna Amica, l'Oscar è andato a Livia De Sanctis, 38 anni di Goriano Sicoli, per gli snack naturali di zucca e zucchina che essiccati nel rispetto della natura possono essere gustati come chipsa, ma anche reidratati per diventare condimento per risotto, paste o zuppe. Categoria Sostenibilità, l'Oscar è stato attribuito a Maurizio Blasioli, 39 anni, titolare di un'azienda agricola a manopello specializzata nell'allevamento dei rapaci, un'esperienza naturalistica basata sull'interazione uomo-animale. Maurizio accoglie soprattutto i bambini creando empatia con gufi e barbagianni. Categoria Affari Rete, l'Oscar Green è stato attribuito alla società d'acqua SRL di Francesco Giovanni D'Alessio, 35-39 anni, che ha ideato un sito di delivery con consegne in meno di 30 minuti, con sede legale a Pescara di soli prodotti artigianali enogastronomici. Categoria Creatività, l'Oscar Green è andato Andrea Iacovana e gli 26 anni di tornareccio per il progetto Adotta un'Arnia, che permette di adottare una colonia di api e di prendersene cura attraverso un piccolo contributo. Ogni sei mesi si possono degustare i prodotti del proprio alveare della colonia di api, che in questo modo sopravvive. Categoria Noi per il Sociale, unica categoria senza vincolo di età, l'Oscar è stato attribuito alla fondazione Fagem, figlie dell'amore di Gesù e Maria, che esiste a Chieti dal 2003, e fondata da Sor Vera D'Agostino, che gestisce attraverso una società agricola e una cooperativa sociale, un villaggio in cui vengono accolte persone bisognose, e assieme a 54 suore e un'oasi in cui la terra viene coltivata con amore.